Un uomo di 33 anni è morto e un 14enne che era con lui è rimasto ferito in modo grave. In ospedale anche un 45enne, lui in codice giallo. È il drammatico bilancio dell'ennesimo incidente mortale sulle strade di Roma e provincia. Tutto è accaduto ieri a mezzogiorno sul lungomare di Marina di Tor San Lorenzo, nel comune di Ardea. La vittima, morta poco dopo l'impatto, viaggiava su uno scooter insieme al 14enne, è rimasto gravemente ferito e trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Bambin Gesù. Lo scooter T-Max con i Selli 2, secondo quanto ricostruito, si è scontrato con un'auto che stava svoltando. L'automobilista di 45 anni, alla guida di una Renault Clio, è stato sottoposto ai test di alcol e droga. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Ardea, che hanno proceduto a effettuare i rilievi, il 118 e i carabinieri della compagnia di Anzio. Una tragedia che segue di quasi 24 ore quella di via dei Monti Reatini ad Anguillara, dove una 67enne è stata travolta e uccisa sempre da un'auto mentre attraversava la strada nel pomeriggio di martedì. Con le due vittime, il bilancio complessivo del gennaio scorso sale a 163, oltre a 110 nella capitale, altri 9 sul raccordo anulare e gli altri nell'Interland e sul litorale. I carabinieri della compagnia di Bracciano indagano sull'investimento e hanno già denunciato per omicidio stradale come atto dovuto la donna al volante dell'utilitaria che ha falciato la pensionata.